Siamo Massimo e Patrizia Paloni, famiglia itinerante del Cammino Neacrotecumenale in missione in Olanda da 11 anni. Abbiamo 12 figli, il più grande ha 19 anni, qui con noi c'è Davide che ha 3 mesi. Siamo molto grati al Santo Padre che ci ha invitato al Sinodo, anche perché questo ci dà la possibilità di poter dare gloria a Dio per tutto quello che ha fatto nella nostra vita. Grazie al Cammino Neacrotecumenale e all'iniziazione cristiana ci ha dato la gioia di essere aperti alla vita e per noi oggi essere qui e testimoniare che vivere le umane vite non è un peso gravoso, non è una cosa insopportabile, ma è una gioia, una grazia. Noi siamo molto grati a Paolo VI, come tante famiglie del Cammino, che come noi hanno vissuto questa dimensione della vita. Sì, speriamo che con questo Sinodo si riscopra la bellezza della famiglia cristiana. Ci sono tante famiglie cristiane, contente, felici, che sperimentano la fedeltà nel matrimonio, la gioia di avere una mensa piena di figli, nonostante le loro difficoltà come noi, che siamo persone molto normali, molto semplici, deboli, con i nostri combattimenti, ma se Dio ha operato tanto nella nostra vita può operare in tutte le famiglie.